Difensore civico, ok all'attività 2022, risoluzione approvata in aula con i voti della maggioranza, ma c'è stata polemica da parte delle opposizioni. Il grande blues torna a Torrita, presentata a Palazzo del Pegaso, la 35esima edizione del Festival in programma in provincia di Siena. Buonasera, ben trovati a questo nuovo appuntamento con Monitor Consiglio. La seduta del Consiglio regionale di questa settimana è stata aperta da due minuti di silenzio per la scomparsa dell'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e dell'attore Francesco Nuti. Successivamente l'Aula ha approvato con i voti della maggioranza l'attività svolta dal difensore civico regionale nel 2022. Ci sono state polemiche da parte delle opposizioni perché la carica in realtà è rimasta vacante per diversi mesi dopo le dimissioni di Sandro Vannini e prima della nomina dell'attuale difensore civico regionale Lucia Annibali. Sentiamo le interviste che abbiamo realizzato a partire dal presidente della commissione che si è occupata di questo caso, Giacomo Bugliani. Dopo un periodo non semplice in cui di fatto è risultata vacante la figura del difensore civico regionale, si è arrivati alla disegnazione di Lucia Annibali, la quale si è presentata puntualmente in prima commissione per relazionare sull'attività del 2022 nell'evidente anomalia che in quell'anno non era Lucia Annibali ad essere il difensore civico della regione toscana. nonostante questo è stata l'occasione per riflettere sull'attività del difensore civico e fare anche un'analisi di ciò che è stato fatto nel non semplice 2022. C'è da dire che c'è stata una lieve flessione delle istanze presentate al difensore civico regionale, sono state 1495 le istanze presentate nel corso del 2022, quindi meno dell'anno precedente, dovuto però in realtà più che alle carenze strutturali o dell'ufficio allo strasceco derivante dalla pandemia, in quanto questo ha senza dubbio provocato un parziale allontanamento da parte dei cittadini rispetto all'istituto della difesa civica. C'è stato però un progressivo avvicinamento ai territori della Toscana dell'istituto del difensore civico, sono stati ulteriormente aperti numerosi sportelli di prossimità un po' disseminati in tutto il territorio della regione, mi piace evidenziare che questo è un aspetto nel quale si compendi all'effettiva gratuità del difensore civico, poiché il cittadino in questo modo evita di avere anche i costi di trasporto per poter accedere alla tutela civica. Due altri aspetti centrali sono stati evidenziati che anche nel 2022 hanno caratterizzato l'attività del difensore civico, da una parte la partecipazione alle commissioni miste conciliative istituite presso le aziende sanitarie del territorio toscano e finalizzate a dirimere i contenziosi tra i cittadini e le istituzioni in ambito sanitario e dall'altra parte la partecipazione del difensore civico attraverso i propri funzionari all'organismo di conciliazione istituito presso l'autorità idrica toscana, accreditato da Arera, che si occupa invece delle controversie dei cittadini con il gestore del servizio idrico. Per questo con l'auspicio che la tutela civica possa essere maggiormente conosciuta da parte dei cittadini toscani, il Consiglio regionale ha approvato la risoluzione che esprime apprezzamento rispetto all'attività del difensore civico regionale per l'anno 2022 auspicando anche un intensificarsi dell'attività dello stesso in settori strategici come quello della tutela della salute da una parte e quello dell'intervento che deve fare e deve svolgere il difensore civico nelle controversie dei cittadini con il gestore del servizio idrico auspicando che questo possa estendersi anche ad altri servizi essenziali come l'erogazione di luce e gas. Noi veniamo da un anno in cui il difensore civico non ha fatto assolutamente niente, dopo in passato qualcosa aveva fatto, ricordo ancora le denunce in aula del collega Stella sugli aperitivi costosissimi per inaugurare i sedi in giro per la Toscana, lo scorso anno il difensore civico non ha fatto niente perché il 10 di aprile si è dimesso dopo solo quattro mesi di lavoro per andare a fare altro, per andare a fare l'addetto stampa dell'agenzia che rilancia i comunicati della giunta regionale. Quindi siamo stati nove mesi perché il nuovo difensore civico è arrivato a febbraio, nove mesi senza difensore civico e anche in questo caso approviamo un atto dove il Partito Democratico dice esprimiamo grande soddisfazione per il lavoro svolto facendo il copia e incolla dell'atto dell'anno scorso. Di fronte a un difensore civico che lavora quattro mesi, si rimette perché va a fare altro e per nove mesi la regione toscana resta senza difensore civico perché Italia Viva e il PD si dovevano mettere d'accordo su chi nominare, noi esprimiamo grande soddisfazione, noi dovremmo esprimere grave disappunto per quanto è successo, una soddisfazione. Sul difensore civico abbiamo espresso una massima condivisione delle politiche portate avanti dalla nuova difensore civica Lucia Annibali rispetto a degli elementi importanti, rispetto alla conoscenza della funzione, una presenza sul territorio, le opportunità fornite nei confronti dei cittadini e delle cittadine toscane e soprattutto un servizio di tutela nei confronti di tanti servizi integrati dove il cittadino a volte sente solo rispetto a queste società, a tutte le bollette che arrivano a casa, a tutta una serie di servizi dove le persone non riescono ad avere una risposta in un'interlocuzione. Quindi in un momento è un giudizio positivo che prosegue le esperienze del passato ma che rilancia una strategia positiva che conferma anche la validità dell'operazione che portò a me stesso avanzare la proposta di Lucia Annibali quale il nuovo difensore civico della Toscana? Personalmente ritengo che la figura del difensore civico sia una figura quanto mai importante, è tratta della tutela dei diritti dei toscani, però se andiamo bene a vedere purtroppo nell'ultimo anno notiamo un arretramento delle richieste di intervento del garante, in particolare per l'ordinamento finanziario in materia sanitaria, i ricorsi sui servizi pubblici. E questo perché? Perché il centro-sinistra con le proprie divisioni ha fatto perdere veramente troppo tempo. Per nove, nove mesi è mancata questa figura ai toscani. Noi siamo stati molto critici che le divisioni all'interno del centro-sinistra abbiano fatto mancare questa figura ai toscani. Notiamo che il nuovo difensore civico si è messo a disposizione, cerchiamo di avere un buon rapporto, ma certo il 2022, questi nove mesi, sono stati veramente tanti. Cambiamo argomento, è stata presentata in Consiglio regionale la 35esima edizione del Festival Torrita Blues, che si terrà a Torrita di Siena da giovedì 22 a sabato 24 giugno. Le interviste. Un evento importante, un evento che racconta bene la bellezza di una Toscana diffusa. Torrita Blues renderà Torrita la capitale toscana della musica, del blues in questi giorni. Un evento importante, un evento da far conoscere, un evento che tiene insieme cultura, che tiene insieme arte, perché Torrita è uno dei borghi più belli della nostra regione, che tiene insieme anche la capacità di saper fare solidarietà. Questa è la Toscana. Ci sarà una cena in cui le risorse arriveranno e verranno messe a disposizione di Casa Marta. Un luogo bello, un luogo importante, un luogo che aiuta i bambini che soffrono. Quindi grazie davvero per queste giornate, che siano momenti di festa, di divertimento, ma anche di solidarietà. Quest'anno siamo arrivati alla 35esima edizione. Direi che siamo uno dei festival più longevi in Italia e oso dire anche in Europa. Questa edizione è particolarmente ricca, perché si apre con una cosa anche un po' particolare, perché la scena tradizionale che facciamo giovedì 22 giugno è in collaborazione alla Copp Firenze, in quanto parte degli utili andranno devoluti al progetto Casa Marta e quindi raccoglieremo dei fondi anche per questo progetto. La scena nacque con il primo gemellaggio che facciamo con New Orleans, immediatamente dopo Katrina e quindi chiamiamo l'anno successivo solo artisti di quella località. Nell'occasione venne sia l'assessore alla cultura di New Orleans, sia alcuni cuochi che vogliono fare uno scambio anche culinario. Nell'occasione esordimmo con questa scena che poi non abbiamo mai interrotto. Quindi il giovedì si apre con tre band che sono quelle vincitori di Effetto Blues. Effetto Blues è la tradizionale ormai competizione, chiamiamola così, anche se di fatto non lo è, dove scegliamo i gruppi che saliranno su quel palco. È frutto di una selezione italiana e quindi l'ingresso è gratuito per quanto riguarda gli spettacoli. La scena ha un costo di 20 euro, lo dico perché è una scena popolare con questo scopo anche benefico. Dicevo che è particolarmente ricca perché il 23 si aprirà con tre band. Inizia Trio Insolito, si chiama Trio Insolito perché sono in quattro. La piccola chicca è perché sono dei professionisti, tra l'altro uno professionisti in termini di vita perché sono primari o medici dell'ospedale di Bologna e dell'università, i quali essendo appassionati di blues vanno in giro per l'Italia a raccontare la storia e quindi sarà una piccola chicca che aprirà poi quella che ha la veletta. Seguirà i Crossroad. I Crossroad sono una band che ha vinto l'Italian Blues Challenge. Noi facciamo a livello nazionale una selezione che poi rappresenterà in Europa, nell'European Blues Challenge, l'Italia. Sono appena tornati dalle finali europee che si sono svolte quest'anno in Polonia. Quindi poi sarà veramente una piccola chicca italiana perché quest'anno sarà presente Irene Grandi. Irene Grandi rappresenta in questo momento un motivo particolare perché ha questo progetto che si chiama Io in Blues nel quale riassume un po' la sua carriera come dall'inizio rendendo omaggio a quella che per lei e per tutti noi è la musica che ha dato origine a tutto quello che ascoltiamo. Per noi è un grande piacere avere Irene come ospite e soprattutto in questa versione, in questo progetto dove farà un concerto esclusivamente blues. Sabato 24 ci saranno due altre piccole particolarità. La prima è Alberto Visentin che riteniamo sia una delle novità importanti sul panorama blues nazionale. A seguire quello che ormai inseguiamo da più di dieci anni, calcherà quel palco prestigioso di Torrita, così osiamo definirlo, perché abbiamo ospite il primo genito del grande Muddy Waters. Muddy Waters, lo conoscete tutti, è uno dei miti del blues e lui è il primo figlio. Guardate, ve lo dico e ve lo anticipo, chiudendo gli occhi, oltre che sentirlo ovviamente suonare, sembra di veramente di avere suo padre che canta e quindi per gli appassionati è una delle grandissime vedette insieme ovviamente a Renegrandi che raccoglie questa 35esima edizione del Torrita Blues. Ovviamente troverete tutto, è possibile visitare il sito del Torrita Blues, dove avrete tutte le informazioni, come arrivare, come prenotare e quindi ecco, riteniamo che anche quest'anno l'edizione sia di grandissimo spessore e all'altezza delle precedenti edizioni. Vi invitiamo tutti a partecipare perché ormai diventerà, per chi è un appassionato, un appuntamento imperdibile per chi ama il blues. Ovviamente il Torrita Blues, oltre alla grande presenza e al pubblico che ovviamente ci dà la forza e la voglia di andare avanti, non posso che ringraziare ovviamente due sponsor importanti, sia come patrocinio che come collaborazione. A questo ovviamente in primis la Regione Toscana, che ovviamente ci dà quest'anno un grande apporto insieme ovviamente all'amministrazione comunale e al Comune di Torrita di Siena e questi due diciamo che sono per noi una costola importante perché ancora il Torrita Blues continui a proseguire nel tempo, questa che ormai non ci siamo interrotti neanche per la pandemia e quindi vorremmo continuare e anche grazie a loro, quindi volevo un particolare ringraziamento ovviamente, ripeto, la Regione Toscana e il Comune di Torrita, oltre agli sponsor privati questo avrò occasione di farlo in altre sedi. È una manifestazione molto legata al territorio però è giunta alla 35esma edizione, 35 anni insomma in una realtà come Torrita di Siena inizia ad essere molto importante, anche se importante lo è per definizione perché è uno dei festival più importanti a livello europeo richiama grandi gruppi blues, richiama tanti appassionati e tante persone legate a questo genere di musica e insomma in questi tre giorni il Castello di Torrita di Siena è un castello medievale molto bello, si riempie di persone, di artisti, c'è quella bella atmosfera dei festival musicali e insomma si respira in tutta la zona. È un invito a vederlo per i nomi che ci sono quest'anno, tutti gli anni, ma quest'anno in particolare insomma abbiamo anche Rane Grandi e tutti gli altri che sono già stati elencati. Quindi è un invito per tutti a visitare Torrita ma più che altro a godere di bellissima musica di alto livello, blues. Posso dire che 35 anni che facciamo blues a Torrita grazie all'associazione Torrita Blues è un'associazione a questo punto sicuramente storica, porta nella nostra piazza di Torrita degli esponenti di questo tipo di musica importantissimi, quindi per questo motivo abbiamo ospitato nel 2016 il festival europeo e quindi è un appuntamento tradizionale. Posso anche dire che durante il periodo della pandemia non ci siamo fermati, abbiamo fatto un'edizione di quelle come usavano a quei tempi, insomma assolutamente in sicurezza pur di non fermarsi, quindi è un'associazione che ci tiene a che questa tradizione del blues venga mantenuta Torrita e come amministrazione la sosterremo sempre. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti.